Ma cosa rischia la Juve? Oggi cosa rischia la Juve? Cosa rischia? Che rischia? Intentitori di Serie B, Lega Pro, dilettanti, interregionali e nonno, ma sì, giovanissimi, Beretti, ma sì, Juve in Serie Beretti e nonno, buongiorno, buon 9 dicembre, Tampare Palermo, oggi ultimo giorno di stare qui a Trapani e si ritorna alla mia casa, home, sweet home, casa, dolce casa, stasera, stanotte, anzi, si ritornerà a Spezia dalla mia prima famiglia, questa è la seconda famiglia, quindi c'è famiglia A, famiglia B, vabbè, Zubottini, ma del Pai di Famiglia B è un po' brutto, non è onesto, sono cattivo oggi, sono cattivo, dai, vabbè, ma quella è mia moglie, quella è mia figlia, insomma, ma nella vita si cambia, è giusto così, si ritorna all'ovile, si ritorna a Berlin, come piova la Spezia, piova la Spezia, c'è che piove, qua non piove, la piove, come cazzo, comunque, detto ciò, io stamattina sono cattivo, non so perché, voglio essere buono, dopo l'immacolata, un pare pare, me fa i buoni, facciamo i buoni, va bene, allora, Marotta, un ritorno alla Juventus, facciamo i buoni, dai, Marotta, perché siccome è all'Inter, no, sta in quelli di Milano, in quelli dove c'è là, come si dice, là c'è sempre, anche lì una piccola mafia, però, sono sempre passaporti falsi, cartonati, sempre, capito, quindi, dobbiamo togliere di nuovo, Marotta, dall'inferno, e farlo ritornare a paradì, da noi, noi siamo paradì, è così, no, però l'indirizzo, stavmente, noi siamo in male, lo so nel bene, e per me sembra contrario, chissà perché, non gioveremo mai, non lo so, siamo così, comunque, invece, da onesto, cittadino, dico, per me, Juve e Indie, tutti i roma fiusi, lì per l'app, lì per l'app, capito, quindi, vedi, vedi, bari sportivo, Juve e Indie, per me, tutti, tutti, hanno fatto semimastruzzi, sempre, sempre, solo che a Juventus, l'Indie, questa differenza, detto ciò, Marotta, la Juventus, ritorno, l'ha detto, spotto, come dico, spotto media sette, eeeh, ma tu credi a spotto, ma quando, ma Marotta va a fare la Serie B, ma che stai dicendo, ma tu quando le notizie è false, ma quando le notizie è false, capito, quando spotto media, se invece mette Juve in Serie B, rischio, cosa rischia la Juve, ah, sì, 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 vero, vero, sì, sì, vero, vero, è vero, hai capito, come sull'interisti, vada, siete bellissimi, ma smè, sì, è vero, come rischia la Juventus, cosa rischia la Juventus, non si sa, rischia, non sa, però Marotta, sì, è vero, perché lo vuole allegra, sì, non gli è scocciato, gli è scocciato a stare all'interno di Marotta, gli dice, aspetta che vada la Juventus, ricostruiamo di nuovo, quindi è giusto che venga Marotta, ho detto sempre che la Juventus è precipitata da questo burrone, soprattutto, per aver cacciato Marotta, e lì è stata Agnele, poi dice, che dicono, è stata forza Ronaldo, e alla fine fu occupato, perché alla fine è stata così purtroppo, ma io da tifoso, insomma, un tifoso che ti prende Ronaldo, non essere contento, però, guarda, se c'erano tutti questi magagni, se io sapevo tutti questi magagni, a questo punto, è normale che io dico, no, aspetta, a questo punto Marotta aveva ragione, se sapevo che andava a finire così, no, io, è normale che votavo Marotta prima in prima, se Ronaldo lo prendeva, ti faceva squadra, guarda, io perché ora, ora, viene a stare tutte queste cose, le cose, la verità va a galla, ora, viene a scoprire tutte queste cose qua, e quindi, giustamente, io a Marotta, Marotta, ma Marotta, guarda, per miracolo di Dio, la Marotta è andata all'indice, vicino il scudetto, guarda, perché è presa a conto, e cose, e va, 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 finì Marotta, va, quell'anno lì, e basta, vi ci vince qualche supercoppa italiana, ma basta, se è stato, guarda, avete preso, come si dice, la nostra, avete preso proprio la nostra forza, e ve la siete portate voi, capito, interisti, copioni, ma siccome ora, siccome quello Marotta era nostro, ce lo riprendiamo di nuovo noi, va bene, e poi rivinceremo di nuovo noi, e poi niente, come, bella così, bello fu Marotta, e poi tu non c'è la, come si chiama la, come si chiama la, no, come si chiama la, Oriali, Branca, Oriali, mio papà, Oriali, non capisci, stati con Oriali, guarda, comunque, Marotta, io, come si dice, le notizie, notizie vere, notizie sagrosanze, verissime, verissime, capito, quindi per me, ripeto, Marotta, solo tu, solo tu puoi salvare questo buio che c'è adesso intorno alla Juventus, quindi, vieni presto, che io ti aspetto, noi e tutti i tifosi juventini, grande Marotta, grande Marotta, speriamo, un ritorno di Marotta, speriamo, guarda, e niente, cosa rischia la Juve? ragazzi, ci vediamo domani a Spezia, ciao!